ciao a tutti bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su polis shootout un gioco che non è ancora uscito credo si sarà disponibile o è già disponibile a breve la demo e l'ho provato con un play test anticipato insomma che si può richiedere sulla pagina steam poi non so se la diano arbitrariamente o la diano tutti insomma però l'ho già provato è in italiano ed è sviluppato dagli hypnoticants allora che cos'è così sulle prime vi direi una sorta di polis simulator ma con l'azione ci sono delle cose carine altre cose che mi hanno lasciato un po più in dubbio e voglio farvele vedere in questo video e iniziamo un nuovo gioco perdiamo tutti i progressi non inizio l'allenamento mi deve fare per forza l'allenamento no si comincia insomma ci insegnano le regole ma belle riassumo io questo è il capitano david summer il comandante dice che siete stato come un mulo aspetta come ti chiami price ok noi siamo scott price sono lui il capitano david summer è stato tuo volete trasferire da noi qual è il motivo molto ovvio va bene insomma cosa stai cercando qui come non lo dice non sono proprio affari miei ok c'è un motivo per cui noi ci siamo trasferiti infatti trasferire in questa stazione di polizia lo scopriremo alla fine della prima missione c'è una chiamata avrebbe trattarsi un tamponamento mettiti al volante io vado più tardi ok sul computer accedendo in un modo del tutto automatico possiamo vedere in giallo le missioni che dobbiamo fare le verdi la verde invece ci porta non qui ma al menu principale di gioco poi penso si sbloccheranno le varie cose e le missioni scusate le blu sono quelle da fare le gialle invece quelle computer quindi possiamo tornare sul posto la cosa molto interessante ve lo dico subito io questa missione l'ho completata in modo abbastanza raffazzonato infatti durante il gioco c'erano alcune promesse che io avevo fatto in qualità di ufficiale ma poi non ho mantenuto e sul giornale che è uscito il giorno dopo in tre giornali diversi si parlava bene per quanto io avessi sventato quello che è successo insomma ma male per tutto quello che io avevo fatto male cioè in sintesi io sono c'è questo tamponamento poi in realtà adesso andrà in modo un po diverso io finita la missione sono risalito in macchina e me ne sono andato cioè non ho fatto niente di quello che quindi iniziamo questa missione l'ho trovata carina questa cosa un po' non sistema di combattimento ma ve lo farò vedere questa è l'auto dove con lei possiamo usare il computer e vedere che cosa è successo qual è la nostra missione in sintesi successo un incidente quindi usciamo e andiamo a parlare con i due scappati di casa qui posso dare un'occhiata ma tanto sembra che uno abbia preso abbia strisciato su un'altra auto non lo so non so vediamo vediamo adesso cosa succede buongiorno signora lui è jacob sono io che ho denunciato il nostro piccolo incidente cosa è successo esattamente stavo uscendo dal parcheggio questo signore mi è venuto addosso ha fatto retromarcia ha sbattuto contro la mia macchina non mi sembra proprio così ma lei sta bene vero non esageriamo è solo tamponamento praticamente un graffio ma il tizio non vuole ammettere che è colpa sua ecco perché ha dovuto chiamare bene allora prepari i documenti che io parlo con l'altro signore cioè in sintesi non sembra che sia andato e sembra che gli abbia proprio strisciato sì in effetti magari lui è andato indietro però impossibile che era qui addosso i carrelli insomma è andato indietro e sto qui passava e gli ha fatto tutta la strisciata no effettivamente in effetti combacia un pochino parliamo anche con l'altro che è eri eri vedoci buonasera hai già sentito abbastanza vero ti hanno dato che sono io responsabile di questo casino ammazza che tipo è già stato e ditemi com'è successo è successo che quel tizio non sa guidare invece di tenere alla destra stava in mezzo alla carreggiata come fosse il padrone del parcheggio ora ne sta facendo un dramma questo potrebbe essere interessante per fortuna era tardi non c'erano molte macchie nel parcheggio così l'ho colpito appena ma sa ritengo che tutta questa situazione sia un fastidio inutile non è d'accordo certo ma devo comunque fare rapporto compilare preparare le sue scartoffe vediamo sbagliarci certo come no ecco qui succede l'imprevisto ok dobbiamo assolutamente segnalare col tasto q vedete si apre questo pannello in cui possiamo scegliere il tesa non ce l'abbiamo il manganello la torcia pistola il blocco appunti blocco appunti non l'ho mai avviato ma in sintesi ci riporta quello che dobbiamo fare la radio diamo comunicazione alla radio segnalo l'arrivo sono giunto avrei dovuto farlo subito segnalo spari inviata rinforzi ci sono spari rinforzi in arrivo in sintesi la cosa la prima cosa che mi lascia in dubbio è che siamo rambo cioè in sintesi andiamo da soli completamente da soli scesi dall'auto in nel supermercato sparano ma noi entriamo da soli polizia aiutatemi il figlio è rimasto nel negozio sono scappato per iniziato a sparare ero sicuro che fosse proprio di me ma si calmi troverò sua figlia quando sono stati sparati i colpi la vedeva ancora si era con me poi ho iniziato a correre ho iniziato a correre verso l'uscita mi sono girato non c'era più la trovi prima che si prima che la prendano a parte la sparatoria se qualcuno altro mi piace non lo so mi ho molta paura per la mia camille va bene in sintesi entriamo di soppiato questo supermercato nulla da dire graficamente carino niente di miracoloso però carino e parliamo col primo tizio completamente alla rambo non parli l'altra voce sono ancora qui loro gli aggressori sono andando in giro chiedo se ha visto la bambina non lo so non credo averla vista ma sicuro qualcuno è corso in bagno forse era lei un nuovo indizio è stato ottenuto il bambino può essere nel bagno ok mi dica qualcosa in più quanti aggressori ha visto ne ho visti due ma stavano urlando qualcosa qualcun altro il loro capo uno psicopatico non abbia tutto uccidio quando ha sparato il tizio che cerca di fermarlo l'ho ammazzato come un cane c'è sangue ovunque ok numero di aggressori sappiamo più o meno che sono due o tre c'è altro più lungo parliamo più probabilmente ci trovi ok meglio rimanere mi muovo da qui ok torno da lui questa è una promessa che gli ho fatto e adesso non so se me l'ha segnata in sintesi i miei giudizi poi possono essere sbagliati perché magari questa missione che deve essere svolta così le altre saranno un pochino più riflessive però tant'è allora intanto lì c'è un tizio che mi ha visto vedete che c'è la barra sopra però non ho modo di schivarlo perché ci sono i carrelli quindi questo tizio qui mi vedrà di sicuro è possibile estordirgli alle spalle io adesso tolgo la pistola avrei dovuto già togliere la prima non posso sparare perché è un uso non autorizzato nel senso che se andiamo a ingaggiare uno sbirro pensi che i capiti di detroit abbiano paura di piedi piatti gelta la pistola e scendi e scendi e odio gli sbirri crepa ok questo qui si è riparato lì dietro ora il funzionamento è a turni nel senso che noi possiamo puntare dove andare in questo caso punto lì e ci dà anche il livello di copertura vedete che essendo qua se ci mettiamo lì abbiamo due coperture alle spalle adesso abbiamo finito il turno ed è andato di l'altizio io voglio andare lì e posso colpirlo in alto c'è il punti azione che sono quelli segnati lì e poi devo beccarlo in tempo mannaggia sono un cane io sparare è scappato in questo caso non è scappato di là io corro la credo di poter correre la ok non lo vedo corro qui e gli sparo sperando di beccarlo merda continua ecco non mi era andata esattamente così prima perché avevo fatto meglio però speriamo di beccarlo mi sparo ancora ok allora alla testa porta alla morte mentre invece alla gamba dovrebbe tecnicamente bloccarlo quindi potrei arrestarlo non l'ho ucciso ho neutralizzato quindi cerco di non di non uccidere nessuno ricarico la pistola mi rimetto in furtivo e ricomincio a esplorare cercando altra gente c'è qualcuno là in fondo c'è anche un portone lì però io vado a sistemare quello perché poi potete equipaggiando il il manganello sto a dirgli quando arrivate alle spalle ma già quello lì mi vede di sicuro quindi non ho modo di tanto vedete che muove così io prendo il manganello vediamo se riesco a stordirlo eh no ma e sono stato ucciso ok niente provo di nuovo conto fino a 3 sparo in bocca ok metti giù la pistola a fare ok al 3 sparo ok e questo cerchiamo di stordire pure lui punto insufficiente passiamo il turno così cerchiamo di non fare vittime ok ha ucciso ucciso l'ho proprio ucciso e questa è la cosa che mi lascia un po in dubbio nel senso che ok gli sparo in testa dovrebbe essere morto no gli scende solo la vita un po come uno strategico però cioè boh sono un po un po dubbioso comunque questo è il direttore vedo che è ferito c'è la cassetta del processo corso sì sono ferito quindi mi mi curo ok adesso gli parlo mi sta salvando la vita grazie lavora qui sono il direttore risulta due tre persone sono responsabili sì si è chiuso il magazzino che sapete sta cercando lì dentro come ci si arriva quando ho trovato all'estate nel negozio visto come parla porta al centro si la chiave sparita non ce l'ho non credo nemmeno ce l'abbè richard ok è ferito no sto bene è sicuro di stare bene sto bene davvero riconoscerli aveva già visti uno l'ho già visto nel negozio il capo sentito il telefono parlava di qualcosa da ritirare non chiedetemi cosa non ho idea vabbè droga le meno chiede a me lo chiedo a lei ok va bene non la disturberò più ok se ne vado da qui no è responsabile quindi vuole affondare con il negozio va bene qui abbiamo la porta chiusa tecnicamente dovremmo poter trovare la chiave per entrare lì però qua vediamo che hanno tirato giù un po di gente io do un'occhiata ancora perché ci sono anche altri testimoni c'è un altro civile morto posso parlare col tizio questo io l'altra volta non non ci avevo parlato l'ambulanza sarà qui al momento no è un cliente viene spesso e oggi vabbè lavora qui si è giusto ciò che è rotto se funziona nel sicuro continua a funzionare sono riuscito a controllare uno dei frigoriferi e ho cominciato tutto un vero inferno non ho sparato lo so ma cos'altro sono entrato e non ho cominciato a fare casino ho visto un tizio che parlava al telefono sembrava che stesse per creare se addosso sa la paura quando ha finito di parlare tirato fuori una pistola iniziato a sparare ci saranno poi anche le contrattazioni che avverrà tipo gioco di carte le carte che andremo a usare useranno delle informazioni conterranno delle informazioni che noi avremo scoperto parlando quindi meglio non lo so mi lasci in pace cioè non rispondi così un ufficiale polizia comunque vabbè tirano tra loro uno deve continuare a chiedere i soldi il capo gli dice restare il zitto però non si muove vabbè gli dico di andare sperando non lo uccidano mentre se ne va ok abbiamo praticamente finito ok se ne è andato sano e salvo vanno buttato giù un po di cose cioè mi sto muovendo come un pazzo sapendo che dentro c'è qualcun altro questo abbiamo questo l'hanno proprio ucciso civile è morto l'altro l'abbiamo beccato di là quello l'appinatore questo non si è capito se è morto o meno perché non c'è sangue ma in realtà voglio vedere se è morto anche l'altro ah posso vederti in alto mi dà degli ok ci ha beccato dove dovevo fare rapporto intanto lì è scappato un civile non hai scampo morgan i tuoi uomini sono fuori combattimento vuoi parlarmi da uomo a uomo cercare di risolvere questo fottuto casino senza spargimento di sangue mi hai fatto divertire così tanto che prendo le tue labbra e vedete che qua c'è il gioco di carte allora sappiamo che un testimone che è stato ok no abbiamo o più carte rispetto all'altra volta allora qua abbiamo la mafia di detroit la carta il primo aggressore che abbiamo incontrato urlato qualcosa sulla mafia testimone riferito a aver scontrato con prestazione sospetto sembra spaventato oppure abbiamo testimone sospetto 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 sembrano trattato comportamento di quel tizio no io provare la mafia di detroit e qua in alto vedete se lo costringiamo ad arrendersi o meno e qua trasforma la nostra carta in dialogo unito ragazzo un attimo prima parlava qualcosa cosa che ridava di cosa stai parlando ho sentito che hai chiamato qualcuno e te la facevi sotto dal paura metti giù la pistola dici quello che sai e troveremo il modo di tirarti fuori da questa situazione uscire da cosa non sai davvero le cose stai parlando questo qui si sta incavolando nero leader da quattro soldi uso questa carta ok qua abbiamo recuperato un po lo stiamo convincendo ma vediamo quest'altra carta ok non ce l'abbiamo fatta comunque quindi chiudo la trattativa e si incazza e quindi iniziamo a combattere e questo morirà vedete che sono riparato quindi la possibilità di cambiare poi ci si può inclinare anche bisogna tenere il mouse mentre si mira mannaggia la vita l'abbiamo al massimo però quindi ok adesso voglio chiamare con la radio perché aveva un po di cose dovevo farlo tempo per tempo quindi va bene sospettato ucciso mafia allora qualcosa puoi controllarlo cavoli qui ottenevo altre informazioni per il dialogo ma ho fatto bene perché comunque almeno abbiamo visto come funziona e non vi faccio vedere tutto fatto alla perfezione cosa che non capita praticamente mai pianta grande locale niente di che ok avrei potuto tirargli giù la conversazione comunicando via radio e tutto secondo sospettato ucciso terzo sospettato ucciso segnalo un civile morto mandate anche l'ambulanza segnalo un altro civile morto perfetto poi abbiamo anche il blocco note dove si può vedere gli indizi si possono vedere gli indizi e la missione ora dobbiamo trovare le cose diciamo eccole qua le buste da recuperare ora tecnicamente possono trovare la macchina polizia e la cosa finisce lì però non ha senso perché adesso il comunico che ho trovato la le sostanze ok bene ora cerchiamo la bambina perché non si sa mai perché l'altra volta non l'avevo recuperata che era nel bagno questo chiuso tutto chiuso il civile che c'era lì è scappato vediamo se c'è qualcosa qui il bagno tecnicamente porta della toilette chiusa chiedo al direttore se sa dov'è la chiave perché devo recuperare quello poi devo andare a parlare anche al civile che c'è di là quello che ho accolto all'inizio è finita per raggiungerli ok questo va bene no vorrei sapere dove cacchio sono le chiavi della del bagno vabbè se non le trovo pazienza così vi faccio vedere che parlano anche male di me sul giornale allora devo andare a parlare a quell'altro di là cacchio mi incastro sì la pistola non si può guardare rimango solo così dai parlavo il direttore puntando la pistola ok come la situazione sotto controllo ok me ne vado perfetto abbiamo sgomberato tutti alla radio non ho niente da dire no infatti la bambina sicuramente è nel bagno ma non ho idea di come fare ad aprirla la porta quindi diamo un'occhiata giusto giusto veloce se c'è un modo di di aprire di trovare delle chiavi appese perché sicuramente dietro sta parete qui è tutto chiuso vediamo se c'è qualcosa che si può prendere ma di no delle delle chiavi del no tutto tutto chiuso non c'è niente da poter apprendere non ci sono c'è neanche il direttore ci dice dove dove andare vabbè allora vediamo un po le casse se c'è qualcosa che no sembrerebbe di no vediamo se ci sono gli stessi prodotti di my summer car il civile qui vabbè ascolta la bambina non l'abbiamo trovata quindi si può uscire vediamo intanto anche sul taccuino primo civile salvato missione il bambino ha scomparso ah li abbiamo uccisi tutti tutti uccisi vabbè mi sarebbe piaciuto salvarne qualcuno vediamo un attimo se la signora lì però c'è anche questo cos'altro posso fare per aiutare non so dove sia la bambina guardi nel bagno ecco la sua chiave cioè darcela prima e ho venuto a chiederla prima cioè dovevamo fare tutta stata fila boh abbiamo adesso si può passare da lì andiamo a aprire il bagno salviamo che la bambina va poi andiamo a finire questa cosa dell'incidente tieni premuto interact ok apri mi lasci vedi un distintivo sono un agente di polizia mi sparava ero così spaventata ok va bene nell'altro bagno sarà sicuramente chiuso no invece no e qua chiuso ok bene è andata fuori perfetto dovremmo tecnicamente aver finito ora cerchiamo di capire se beh non posso comunicare nulla vado dalla madre che non è molto entusiasta di vedere la figlia grazie mille davvero non si allontane avremo bisogno della sua dichiarazione eh sì e adesso il direttore abbiamo finito con lui no lei un breve eroe grazie tutto da solo cioè intanto non è arrivato nessuno sti qui sono qui come se nulla fosse per risolvere il problema ah questo è il capitano che è arrivato intanto aspetta parliamo ho esaminato il suo dossier su tutto dai sei qui per cercare il tuo fratello che è scomparso tempo fa eh quindi hanno scoperto il perché siamo venuti di solito non mi mischio in queste cose ma concentrati sul lavoro eh ti do un consiglio pare di darci un taglio ci sono persone che ci stanno lavorando hai presente la regola di un chirurgo non taglia nessuno dei suoi bene seriamente lascia perdere ma hai finito qui porta il tuo commissariato tradotto un po' così la fa sembrare più dura di quello che è di quello che è probabilmente allora tranquillo tutto sotto controllo non si preoccupi ci siamo messi d'accordo va tutto bene ah questi qui si sono messi d'accordo quindi abbiamo concluso anche questa storia qua ah ok non avete più bisogno di me vabbè fortuna che ero qui bene a questo punto si può risalire in macchina credo perché questo qui va a tenere da qui mi ha concludo la missione e vediamo l'esito di questa missione 64% l'altra volta avevo fatto 33 mi pare non ho arrestato nessuno e quindi avrei avuto un bonus però anche lì stai sparando sparando c'hai poche possibilità di prendere vivo qualcuno nel senso lì ho anche sparato le gambe è uno ma vabbè rapporti radio 9 su 12 non ne ho fatti abbastanza ho preso delle sanzioni perché le ho uccisi tutti non sono fuggiti però mi fa pensare che comunque si possano mettere anche in fuga e soprattutto si possa uccidere qualche civile per sbaglio quindi interessante e ora la parte più interessante rapina al supermercato un agente di polizia ha preso il controllo della situazione questa è un po' rambo vabbè guardano Nolix tutti pensano di poter fare come quel fan di Ossian o come John Dillinger vabbè Nolix le nuove serie tv su Nolix poliziotto eroico salva madre fila invece nell'altro mi criticavano perché ho andato via molto bravo sono ok e ora siamo a livello 1 puntabilità disponibile 1 e si può è un po' sfocato qua ridurre il tempo il tremore della mano del 15% l'area dello sparo perfetto è interessante aumento l'area così sparo meglio c'è anche intrufolarsi quindi si può potenziare il nostro personaggio quando quando mira insomma no quando mira quando si muove con furtività e quindi non farci beccare allora intanto abbiamo altre due missioni stalker nel motel e ostaggio alla stazione quindi sono altre due missioni qua abbiamo il tamponamento che rimane come missione completata invece cliccando qui un po' una delusione perché si torna almeno principale ovviamente non voglio andare avanti perché voglio magari eventualmente lasciare spazio anche una live insomma su questo playtest fatemi sapere che cosa ne pensate non è un gioco brutto per carità forse stato magari come poli simulator dove si vagava con l'auto si camminava ovunque si andava sul luogo era ancora più figo è fatto bene andrà limato però già se ci saranno tante cose da poter sbloccare tante cose un po' la elenoir per far andare le missioni in modo diverso non è male ovvio ci sono delle cose che non magari non mi non mi ispirano tantissimo questa cosa alla rambo ma purtroppo devo sempre valutare che è un gioco non è una simulazione quindi quelle storie era polis shootout fatemi sapere che cosa ne pensate uscirà prossimamente e noi ci sentiamo nel prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao